Guerra alle zanzare, arriva alla pillola per impedirne la crescita. In parte ritardata dalla lunga stagione delle piogge, è ufficialmente partita la campagna del comune di Como per ridurre al minimo la presenza dei fastidiosi insetti in città. 22.000 euro il costo del progetto, spesa che comprende sia la progettazione e gestione scientifica sia gli interventi concreti nei pozzetti, nelle caditoie e in generale nei punti che presentano ristagni d'acqua e che quindi potrebbero diventare l'abitat ideale delle zanzare. Il progetto comprende proprio questo, un primo monitoraggio del territorio comunale per individuare situazioni a rischio. Poi c'è il monitoraggio con le ovi trappole, quindi per stabilire il ciclo della zanzare, per stabilire quando è il momento massimo di deposizione delle uove, quindi futuro delle larve, quindi di futuro degli adulti, che viene fatto da metà giugno a settembre. Un monitoraggio utile a mappare il territorio per individuare le zone più critiche come orti, cimiteri e scuole e intervenire in tempo. Per quanto riguarda la prevenzione invece, il ruolo operativo è stato affidato alla cooperativa Il Seme che ha offerto un'opportunità di lavoro a chi è senza impiego. Muniti di bicicletta, gli operatori hanno già terminato il primo censimento, controllando in una settimana circa 10.000 pozzetti, nei quali posizionare, attraverso un tubo in dotazione, le pastiglie non velenose, ma in grado di impedire alle larve di crescere e diventare adulte. Conclusa la prima fase, i prossimi due interventi verranno messi in atto a metà luglio e ad agosto. E ci auguriamo che questo sia visto dai cittadini, anche come una possibilità di poter magari intervenire negli spazi privati, là dove uno non è in grado di farlo personalmente, ricorrendo a strumenti simili ai nostri. Perché ovviamente l'intervento sul suolo pubblico ha un'efficacia se adesso corrisponde anche un intervento del privato. I cittadini devono sapere che noi la nostra parte la stiamo facendo fino in fondo.